Nel periodo compreso fra dicembre e i primi giorni di gennaio, il comparto turistico a Trieste ha segnato un incremento di presenze superiore del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Vale a dire la ciliegina finale su una torta molto saporita se si considera l'andamento dell'intero 2014 con risultati più che soddisfacenti anche per quanto concerne i musei civici che con 354.000 presenze complessive registrano un aumento dei visitatori del 13% rispetto al 2013. I soli musei scientifici risultano in crescita del 41%. I dati sono stati resi noti stamani dal sindaco Cosolini e dall'assessore al turismo Krauss. Quest'ultimo ha sottolineato quanto questi numeri debbano anche ai grandi eventi, ad una situazione meteo che ha favorito l'arrivo in città di molti turisti nei mesi estivi e ad una combinazione particolarmente favorevole per quanto concerne i ponti infrasettimanali. Sia come sia, ha precisato Cosolini, per Trieste il turismo non è più un episodio ma una precisa strategia attorno alla quale si lavora di continuo. Nel 2015, che sarà l'anno dell'incremento boom delle crociere, è in programma un non meglio precisato evento che porterà a Trieste un numero cospicuo di giornalisti specializzati. Già la prossima settimana Trieste sarà a Vienna nell'ambito della fiera del turismo. Il portale Discover Trieste si sta rivelando uno strumento sempre più indispensabile ed efficace, laddove fin da subito si programmeranno i prossimi eventi natalizi. Lo stesso comune fra pochi giorni illustrerà il progetto aggiornato del centro congressi al Silos che in prospettiva andrà a sanare la crisi del turismo congressuale. In più, e non è un dato trascurabile, l'assessore Krauss ha inteso sottolineare quanto sia cambiato l'atteggiamento dei triestini divenuti molto più affabili e gentili nei confronti di chi visita la città.